Certo signora, d'accordo, ma senz'altro, sì, un attimo signora, abbiate pazienza, questo qua, telegolfo notizio, ma va nell'altro studio per cortesia, Ciro, appendilo là. Allora, volevo dire, signora, arte divinatoria, sì, ma naturale, sì, certo signora, ci saranno sempre, diciamo, delle novità, ovviamente su telegolfo e poi c'è anche il Toto 13, appunto la fortuna di Gennaro Gauria nelle vostre case, magari per farvi tanti miliardecci, eh, signora, vi do questo grande appuntamento ogni sabato dalle ore 21 alle ore 22 e 30 su telegolfo, ma naturalmente signora, la simpatia è come al solito, grazie, arrivederla. Allora, miei cari telespettatori, vi do un grande appuntamento da non mancare, appunto su Telegolfo, da partire da sabato, alle ore 21 fino alle ore 22, arte divinatoria, che si parlerà un po' di tutto, ci sarà il Toto 13 gioco quiz, appunto, potete vincere tanti milioni e naturalmente una cosa molto importante, si parlerà anche della cultura di Torre del Greco. Mamma mia, raga, ma insomma, signor, ci stiamo organizzando, vi aspetto tutti quanti sabato, ciao, arrivederci.